Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui andiamo a presentare l'evento di questa settimana ovvero evento PvP Temporade 11 di 13 di questa season, quindi season che sta avvolgendo agli sgoccioli in questo evento avremo anche la possibilità di sbloccare due nuovi ritratti sbloccando il Tempio Centrale quindi completando i livelli arancione e messaggero dell'isola centrale altra novità è presentata dall'evento Atlas inerente all'attestamento Primarchi e Rider quale PG ha portato una modifica per quanto riguarda i punteggi degli attacchi alle bestie ora avremo un punteggio pari a 200 per ogni miniera o besta sconfitta questo ovviamente sarà moltiplicato per i bonus giornalieri che legati all'account elite ovviamente saranno maggiori quindi ci consentiranno di fare ulteriori punti e ovviare magari per chi non riusciva più a far punti dato che aveva finito tutti i livelli primarchi ovviare a questo e quindi comunque sia è una possibilità che PG dà appunto per riscuotere i premi e fare l'evento anche se siamo a secco di livelli da dare ai primarchi altra novità ufficiale per quanto riguarda l'evento Kingdom Wars è appunto che PG ha deciso definitivamente di eliminare questo evento quindi gli eventi PvP a rotazione non saranno più 4 ma 3 ma verrà comunque inserito un nuovo evento PvP quindi un evento completamente nuovo chiamato Crystal Caves che inizialmente sarà inserito come prova di 1-2 giorni durante un evento fortificazione o allevamento questo per appunto vedere se va tutto bene se ci sono problemi e quindi magari sistemare eventuali bug prima di rendere comunque questo evento ufficiale per poi inserirlo cadenzamente nella rotazione dei vari eventi PvP bene ragazzi anche per questo video è tutto se vi è piaciuto come sempre ricordatevi di iscrivervi al canale mettere un like attivare la campanella in modo tale da essere sempre aggiornati condividetelo con i vostri amici se avete domande scrivetelo nei commenti e come sempre ci vediamo al tuo prossimo video ciao